ciao a tutti benvenuti al gameplay è rimasto che avevo affrontato il cacciomache nella missione cacciatone e non è fermato qui quindi proseguo allora faccio così a metà tassi no allora faccio così a volte a metà l'umore utilizzo il punto raccolta ridurre sicurità delle opere reti il consumo esistente quando scrivi su pareti no in realtà volevo accettare la coppia della vita e abbandire la settimana e abbandire la settimana ha lo stesso sicuro gli effetti dei cibi permangono se per i stessi in battaglia voglio proprio vedere la vita che i molti contatti grandi siano deboli ammettere la vita che finisce a bocchino un'altra pesca a volte dei decenni subiti provocare l'intervallo ti alzi difende spesso dalla luce i danni subiti e ci consumi si entrano schievi basta un mostro per migliorare la difesa ok ok c'è acqua capullante ma non stassi bene no la missione urgente sarà alla prossima a meno che non ci vuole andare lei signorina, sai com'è e ecco ragazzi, cacciare due tetto su camera e poi consegnare il basso e... zampe consegnare una dell'altro nello spot vediamo se mi capita vediamo se ragazzi che il tetto su camera ci aspetta ok che è sta roba? ok, non ci interessa per il momento se mi interessa se mi interessa trovare il tetto su camera immaginiamo che andrà qui allora sarà qua eccolo il tetto su camera sono qua non scappare che mio sa la cazza che è benvenuta che non è altro qui se dà una se es quando vieni qua aiuto e da fanguro non so ti f**to ci provo almeno cracch 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 dai 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 c'è patuto alla fine dello stardo oh vai a fanguro anche te non so se posso sbarare questo si fa male immagine mi aiuto si è incazzato signorinello va che potrebbe è incazzato è incazzato buona tessa dopo tu incazzatissimo signorinello non ce la fai 6 forza ragazzi pan crack 8 ragazzi aiuto ragazzi ok dai spacca sto a fare aiuto la porta a portale cazzo non mi fotte ma ti ho togliere dai forza bastardo ok il signorinello sta tornando indietro ok nessun problema intanto aumento la resistenza forza forza ragazzi non prevedo tempo che devo seccare soltanto seccare eccolo non ci crederà 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 e adesso salta non ci devi di e Eh eh, però fu tua Hai voglia di raggiungermi? Cazzo Dai ragazzi però Dai, stai bene Dai, stai bene Dai, stai bene Un bravo pacchi Voilà Bene ragazzi Il signor anello è andato Anche perché in effetti col tempo ci siamo Bene Una botta di uccisioni in un sol colpo Ok Anzi Tanto tu sei morto Io tu vado giù Perché mi sa che L'altro esemplare Sarà qui Eccolo ragazzi Avevo ragione Avevo ragione Questa c'è una tega E' un bel venuto E' un bel venuto E' un bel venuto Vai ragazzi E' un bel venuto E' un bel venuto Dio furbo Dio furbo Dio furbo E' un bel venuto 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 Che miseria Che mia ragazzi Che bastardo Che sei Tatsukabra No, questo qua non mi serve, maledetto, concentrato in pieno, è caro tanta sua capra, la faccio pagare adesso, grazie, intanto faccio, così mi aumento la velocità dei movimenti, e via, i panchi non so perché tu sei inattivo, eccomi, maledetto tetto su casa, sto arrivando, e se è uguale, qualche puttana, schifoso, bastardo, ma che son qua, stronso, quanti cazzo mi è cresa sta roba, coglione, ce ne lo so, schifoso, bastardo, dai coglione, no, cazzo, aiuto, son qua, eh, torna, mamma, non abbiamo ancora una steca, ce l'ho tirata, dai coglione, vale, grazie, intanto non ce l'ho fai, zio povero, che cazzetti è macchiato, che faccio, mi fida? vedito, mamma mia, eccolo, se mi c'entrava là, eh, ok, ok, bene, ragazzi, si torna indietro, va a far fare questo stronzo, stronzo, non so, sei, che figato, dall'altro così, non ce la fai, no, cazzo, così un po' di farla stronzola, dai ragazzi, però a cercano, e quindi, sono dentro il vetro, su stronzo, Mario, ah, c'è un guai, e immaginavo, ok, no, cazzo, ik, putiti, fatta su Friday, latte, ah, cazzo, 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 dai poti dai poti dai grazie e sottotitoli a te levatevi voi no cazzo oggi impari alcuni ragazzi bravissimi ragazzi Stai male? Non vado a furterla Perfetto Già mai le vaticole al cazzo Ok, ora faccio a fare un tetso Eh Ho 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 Non è giusto Non è giusto Non è giù a cane Se scrivo non vuole scrivere tutti le porco giù da cane Merda Bastoglio sei l'altro Ti f***o cazzo Te sbrego Te sbrego Non ce la fai Le faccio fuori a me Te l'ho detto di che facevo fuori Gran pezzo di M Dai ragazze Dai Dio mostro Guarda che fili di puttana Guarda che roba Dio madonna di quell'ha Guarda che roba Dio madonna di quell'ha Schifosi bastardi Andate per farlo mettere in c***a che voi E' un prey da merda Guarda Che cosa il coglione Buone Ragazze Si è tornato Oh madonna è arrivato un'altra E' arrivato un'altra Eccolo Via E' arrivato molto velocemente quelli nuovi Quindi via via Andiamo a completare la missione Grazie Qui Iniziamo E' addio Iscriviti eccoci qua dai che siamo arrivati ragazzi su mi riesco a mettere una macchina di posto io qua posto mio perfetto allora intanto da un lacrima rosso e poi cosa c'è la principale vediamo che questa è andata oh yeah però è un po' di roba allora carapace scaglia più scaglia più carapace scaglia più artiglio più zanne più carapace ammolite docente scaglia più zanne più scaglia più ammolite docente se ammolite più 1 erba fuoco lettre acqua più poi carapace attiglia più voi avete racconto molto poco tu pacchi da bacca piccicose tu stile da dragonite vediamo un po' con la sua stile qua blocco più 2 trappola più 5 ok sfinitore più 4 proiettili scopri meno 3 va bene bella la stile attuale 9 ottimo ragazzi questo è il video anche la campanella è la campanella molto più molto più si è la campanella di questo di questo è un link è una modifica saluto